La più cordiale buonasera dal Palacarucci di Terracina per questa importante sfida tra la formazione guidata da Americo Micinilli e Real Terracina. Pensieri e Paroli che sfida per questa gara interna il Real Potecora guidata da Davide Pacassoni, recupero della terza giornata della stagione 2013-2014. Il gioco proprio in questi istanti con il Terracina a manovrare questo primo pallone di gioco di Giorgio che torna dopo due turni di squalifica in campo. Quindi immediata proprio nella giornata di apertura, giornata inaugurale quando il Real Terracina ha perso in casa. Mameli capitano della formazione del Real Potecora subito ci prova Piovesan nel tiro ribattuto dal capitano della squadra di casa. Cacciotti con le mani subito alla ricerca di Di Giorgio che prova a girarsi il tiro e c'è subito dopo qualche istante il tiro. Lateralmente Piovesan a ritrato, adesso viene anche in aiuto Cristofoli, riceve in questo istante da Mameli dalla parte opposta, ci prova l'1-2 il tiro, il velo da parte di Piovesan. Dovrebbe essere lui il tocco proprio così, Real Potecora in vantaggio, 1-0 cambia il parziale in questa sfida con questa rimessa laterale. Cristofoli se ne incarica subito in mezzo, tocca in maniera errata, Piovesan non riesce a battere a rete, ancora comunque Zanella per Di Giorgio. E c'è il pareggio, pareggio di Di Giorgio, ottimo il suggerimento di Pecchia, gioco da ragazzi per Di Giorgio, mettere la palla in rete. Adesso respinge con le mani, questo pericoloso pallone, è Pecchia, servizio per Di Giorgio, il tiro in rete, rete di Di Giorgio, vantaggio adesso del Real Terracina. Poco più di un minuto, doppietta per il pivot della formazione, chiamato in causa adesso Mameli, che riceve sempre da Paolucci, spalla la porta per Cristofoli che si gira e c'è il gol! Interessante, bellissima l'azione, il pareggio di Cristofoli, gli è stato lasciato quello spazio sufficiente per infilare nell'angolino medio-basso. Esce adesso il Real Terracina con Pariselli per Di Giorgio, rete! Ancora Di Giorgio e ancora Real Terracina, 3 a 2, torna di nuovo in vantaggio. Veloce, vemente, la replica, la ripartenza della formazione di casa, Sannella. Arriva proprio invece in questo istante il duplice fisco, le squadre vanno a riposo con Real Terracina in vantaggio per 3 reti a 2. E si torna in campo per i secondi 30 minuti di questa importante sfida al Palacarucci, Real Terracina e il Real Potecora. Alla battuta a rete, adesso è Rango in difficoltà e viene fuori con eleganza lo smistamento del pallone per Mameli. Gira ancora per Mameli! E Cacciotti! Veramente qui ha qualcosa da farsi perdonare. Non è riuscito a fermare il pallone. Rango scodella subito in avanti per Cristofoli, ancora il servizio riceve, ancora finta con il corpo, ancora Mameli e c'è il gol! Piovesan nel giro di un minuto capitola il Real Terracina. Piovesan ricevuto da Trombin il velo di Cristofoli, Pecchia. Si fa in incontro Piovesan che gli soffia anche il pallone, adesso riparte Real Potecora. Il tiro ribattuto da parte e c'è il gol! L'asse Piovesan. Rango Cristofoli che non tradisce sotto rete e fa vedere la sua buona vena in fase realizzativa. Tre gol anche per lui e adesso il Real Potecora allunga a due. Indietro per Cacciotti, pallone per Di Giorgio, il tiro. Ancora Real Terracina con Pecchia, riparte con Di Giorgio che non riesce a mettere il pallone in mezzo. Ancora Di Giorgio, ancora adesso rimette in mezzo il piattone! E c'è il piattone di Zanella! Zanella, il piattone di Zanella. Ancora Zanella, Gianmarco, il pallone messo in mezzo di Giorgio! Si cincischia un po' troppo sotto rete. Zanella, Alessandro e Cristofoli rimediano entrambi il cartellino giallo. Adesso è Pariselli. Gioco di gambe, disturbato da Piovesana, il pallone che arriva dalla parte di Di Giorgio, arrivate! Pareggio di Di Giorgio! Adesso ancora Di Giorgio, Cristofoli scusate, c'è il fallo di Mano a fermare l'azione. Calcio di punizione, Cristofoli. Il tiro e c'è il gol! Spettacolare fiondata di Denis Cristofoli. Poker personale per lui, ma è forse quello più decisivo. Il tiro libero, adesso si gira Orlando Di Giorgio. E arriva la fine della gara qui al Palacarucci. Real Potecora batte Real Terracina 6 a 5.